Due nuovi ricoveri all'ospedale Mazzini di Teramo, entrambi presentano qualche lieve sintomo, ma uno era già vaccinato, solo la prima dose, e l'altro era già risultato positivo al Covid. Il direttore sanitario Maurizio Brucchi invita a fare ancora attenzione contando che il virus circola ancora. Ci sono stati nella giornata di ieri e l'altro ieri due nuovi ricoveri, uno con una dose di vaccino fatto e un altro con una positività pregressa al vaccino, quindi l'aveva già incontrato, lo ha incontrato nuovamente, e tutti e due hanno dei disturbi respiratori, quindi uno ha un febbre, entrambi febbre di dispenea. Questo a dimostrazione del fatto che questa abitudine, consigliata anche da qualche medico, da qualche collega, di dopo una dose andare a fare il test e misurare l'entità della risposta anticorpale è un errore. Per quanto riguarda la chiusura del supermercato a Teramo, erano in più persone inizialmente a risultare positive al tampone rapido. Dopo i controlli della ASL col tampone molecolare, solo uno sarebbe il caso positivo. Ora si aspettano i risultati dei tamponi effettuati nella giornata odierna. Intanto ieri è stato chiuso, stamattina stiamo facendo i tamponi a tutto il personale, fino ad oggi il positivo è uno soltanto con il test molecolare, questo è importante sottolinearlo, vediamo che succede, però guardate il virus circola, ma i clienti, insomma io aspetterei di vedere quanti positivi ci sono, per poi decidere magari, ma la TV Lucat farà la sua attività di tracciamento come ha fatto sempre. Questo però è dimostrazione del fatto che il virus lo possiamo incontrare nei punti più disparati, perché il virus è in giro e allora mettiamoci al sicuro, facciamo questa vaccinazione. Oramai tanto quello che, diciamo come dire, i rischi, chiamiamoli così, gli effetti collaterali, sono stati verificati. Facciamo prima e seconda dose e mettiamoci al sicuro. La raccomandazione è sempre quella di vaccinarsi e prenotarsi negli hub. Nel frattempo l'AS pensa a nuove proposte per agevolare i cittadini. Sia come Abruzzo che come Teramo siamo al di sopra dei dati regionali, della media nazionale, però è chiaro che notiamo un po' dappertutto, ma anche a Teramo un calo nelle prenotazioni sugli hub. Una percentuale che varia intorno al 15-20%, quindi non è pochissimo. Stiamo cambiando anche alcune strategie, per esempio stiamo provando a vaccinare la sera, tardi e la mattina presto. Stiamo anticipando le seconde dosi, perché è importante completare la vaccinazione dei tempi. Metteremo in campo anche attività lungo la costa, perché forse se il giovane, soprattutto il vaccino, lo incontra, magari passeggiando per il lungomare, magari si vaccina.